E' stato istituito a livello nazionale un comitato tecnico che lavorerà per velocizzare le procedure di erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto firmato a marzo dal Presidente del Consiglio. La decisione è stata presa al termine dell'incontro in videoconferenza tra gli assessori regionali al lavoro, il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e il Presidente dell'Inps Pasquale Tridico durante il quale si è discusso di ammortizzatori sociali e in particolare di ritardi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga. Per la Campania, che ad oggi ha ricevuto e istruito oltre 60.000 domande, ha partecipato l'assessore Sonia Palmeri. Noi abbiamo richiesto uno snellimento assoluto di questa procedura. La normativa oramai è datata, è del 65, non si può adattare a un periodo di crisi nera come questo che stiamo vivendo. Quindi abbiamo chiesto che si sauri subito un gruppo tecnico di lavoro che possa, come l'ho definito io, sfrondare questa normativa che poteva andare bene in tempi passati e in tempi ordinari, non sicuramente in questo periodo. Nel corso dell'incontro Palmeri ha anche chiesto al ministro aggiornamenti sui contenuti del DPCM aprile, atteso da diverse settimane e ancora in discussione, per predisporre la macchina organizzativa della regione ed evitare ulteriori ritardi. Su questo non ho avuto risposta perché poi ci sono accavallati chiaramente anche gli interventi, però su questo e su altro il ministro mi ha detto che mi chiamerà a breve su altri problemi che ho posto e quindi cercherò poi di darvi aggiornamenti. Grazie. Grazie.